Un saluto a tutti e bentornati all'appuntamento con Symposium. La grande fuga dei giovani all'estero non si ferma, anzi negli ultimi due anni sembra essere aumentata del 34% e fra coloro che decidono di lasciare il nostro paese ci sono soprattutto i nostri migliori cervelli, il 96% dei quali decide per l'appunto di abbandonare l'Italia per cercare delle possibilità occupazionali migliori all'estero ed il 73% di coloro i quali per l'appunto hanno avviato un'attività lavorativa al di fuori del nostro paese non ha alcuna intenzione di ritornare qui da noi. Di questo ma di molto altro ancora parliamo oggi con il nostro ospite in studio, il segretario generale della FIR, la Federazione Innovazione e Ricerca della CISL, Giuseppe De Biase. Buongiorno segretario, grazie per essere qui con noi oggi. Allora segretario, ma è proprio vero che l'Italia non è un paese per i giovani? Proprio ieri la Ministra dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca, Stefania Giannini, ha detto che bisogna sfatare il mito dei cervelli italiani in fuga. Beh, bisogna sfatare il mito. I numeri che lei ha dato sono impressionanti e descrivono bene la situazione. E guardi, non è il problema di fare un'esperienza all'estero, in particolare chi si occupa di ricerca sa che l'esperienza all'estero è di comune arricchimento per chi va all'estero e per chi viene dall'estero in Italia. Il punto è un altro, le prospettive che noi non diamo ai nostri giovani per tornare in Italia. Il punto è un altro, quanti ricercatori stranieri vengono in Italia a fare ricerca. Guardi, pochi giorni fa c'è stata una querelle fra la Ministra Giannini che giustamente riportava come dati positivi i dati riferiti all'attribuzione dei grants, le borse di studio finanziate dall'Unione Europea. I ricercatori italiani si dimostrano fra i primi. 30 ricercatori vincono progetti. Il punto è che fra questi 30 progetti, 17 sono fatti da ricercatori che vivono ormai all'estero e che realizzeranno questi progetti all'estero. Per contro, in Italia, da ricercatori stranieri, verrà realizzato un solo progetto. Ecco, oltre alle affermazioni che vanno sicuramente bene, ma vanno poste in essere iniziative perché questo Paese non perda quelle che sono le proprie migliori risorse intellettuali. Va detto che anche molti giovani bravi restano in Italia. Il problema è che la logica dei numeri spinge a cercare soluzioni lavorative all'estero per ciò per cui si è studiato e ciò su cui il Paese ha investito. Pensi che la formazione di un ricercatore costa al Paese fra i 700 e 800 mila Euro. Quando il ricercatore va all'estero porta via questo investimento e porta via la capacità di acquisire risorse. Quindi le ricariamo ai nostri competitor europei. E poiché nella moderna società della conoscenza, la competizione si gioca sulla capacità di innovare e quindi sulla capacità di far avanzare la conoscenza e quindi di fare ricerca, quando regaliamo queste risorse all'estero facciamo un grosso danno al nostro Paese. E proprio voi qualche giorno fa in conferenza a stampa avete rilanciato l'allarme rivolgendovi direttamente al governo e chiedendo appunto all'esecutivo di manifestare molta più attenzione verso il sistema della ricerca pubblica. Ma è vero perché tutti quanti ci inorgogliamo quando otteniamo grandi risultati. È il caso di l'osservazione sulle onde gravitazionali, un progetto anche italiano. Peraltro in Italia c'è questo rivelatore a Virgo, a Cascina, che è un esperimento anche molto innovativo per quello che riguarda la tecnologia, ma è un esperimento fatto di progettualità. L'idea è di 40 anni fa, i primi investimenti sono stati fatti 20 anni fa. Dopodiché ci inorgogliamo, ma come passiamo poi dall'orgoglio fatto spesso dai sacrifici individuali a un'idea di sistema della ricerca, dove poi quello che facciamo abbia richiedute positive sul Paese. Ecco, la ricerca scientifica è la sola speranza di sviluppo. Tutti lo dicono, ma purtroppo ad oggi non si riesce a passare dalle parole ai fatti. Proprio ieri, torniamo sempre a citare la Ministra Giannini, aveva avuto modo di sottolineare più volte nel corso di un suo intervento agli stati generali dell'industria a Roma, se vogliamo una società migliore non abbiamo alternative se non capire che l'investimento nella ricerca non è soltanto compito del settore pubblico, ma va condiviso. Ecco, la Ministra quindi chiede una sorta di interazione concreta, attiva, vera, tra settore pubblico e settore privato. Questo appunto ad oggi ancora non avviene. Sì, il problema degli investimenti è fondamentale. Noi siamo in un sistema che ha scarse risorse, peraltro negli anni precedenti è stato soggetto a continui tagli, con la logica dei tagli lineari indistinti, quindi fra settori su cui bisognerebbe investire e su cui invece bisognerebbe operare davvero una sana spending a review. È vero quello che dice la Ministra, che il privato investe poco, ma è ancora vero che lo stesso Stato investe poco. Gli investimenti, sia pubblici che privati, ci collocano nella fascia più bassa di quello che sono gli investimenti della comunità europea, ma non solo, dei paesi che ormai investono. Anche i paesi che una volta erano chiamati del terzo mondo, ormai ci superano in investimenti rispetto al PI. Le do un dato, l'agenda di Lisbona avrebbe preveduto che entro il 2010 i paesi dell'Unione europea avessero investito il 3% del PI. L'Italia oggi investe l'1,3% del PI e la dice lunga quindi. Quindi quando il Ministro dice queste parole non possiamo che condividerle. Il punto, come giustamente richiamava lei, è che poi da chi governa ci si aspetta che si passi dalle affermazioni giuste di principio, però a fatti concreti. Ma cos'è che impedisce di passare dalle parole ai fatti? Qual è l'intoppo principale che noi ci troviamo davanti qui in Italia? Io credo che questo paese debba fare delle scelte, peraltro e debba scegliere su cosa investire. È vero che viviamo in un sistema che non ha risorse illimitate, però rinunciare ad investire la ricerca vuol dire che non solo non facciamo avanzare il progresso, ma oggi perdiamo delle risorse. Guardi, nello scorso programma 4, della comunità europea, i nostri ricercatori sono rivelati i più bravi ad acquisire risorse. Dai nostri studi risulta che la loro capacità ha un più alto rendimento e quindi siamo molto efficienti rispetto al numero di ricercatori. Dopodiché i ricercatori e in generale il personale della ricerca è poco e quindi noi prendiamo poche risorse con un risultato che nello scorso programma 4 abbiamo dato all'Unione Europea per finanziare la ricerca 14 miliardi e ne abbiamo presi 8. Quindi abbiamo dato i nostri soldi ai nostri competitor. Anche i nostri enti di ricerca sono molto efficienti. Sempre è una cosa che noi citiamo spesso, ma ci piace citarla, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, si è classificato al quinto posto se consideriamo tutte le università e tutti gli enti di ricerca. Fuori che primo è arrivato il CNRS francese, 25 mila addetti a fronte degli 8 mila del CNR. E poi quando si parla di investimenti in imprese, questi vanno incoraggiati, anche attraverso per esempio meccanismi di credito di imposta. E poi quello che manca, manca una circolarità anche delle risorse umane. Guardi, noi abbiamo 3 soggetti che fanno ricerca istituzionalmente e dovrebbero fare ricerca istituzionalmente in questo Paese. Gli enti pubblici di ricerca, le università e l'impresa privata, tralasciando le regioni dove davvero il ragionamento diventerebbe più complesso. Questi 3 soggetti non hanno un unico punto di coordinamento, quindi non c'è in questo Paese un piano strategico sulla ricerca, ma gli stessi enti di ricerca, che sono 21, sono vigilati da 8 diversi ministeri. Il capofile è certamente il mio ora, ma ci vorrebbe tanto a semplificare il sistema, a creare una governance unica, magari semplificando anche… Lei parla di una sorta di accorpamento? Io parlo di semplificare il sistema e magari nella semplificazione togliere anche qualche poltrona e magari queste risorse potrebbero diventare un investimento immediato per avviare un piano di assunzioni straordinario di cui questo Paese ha fondamentale bisogno, stante il drammatico numero di precari che ci sono nella ricerca. Lei parla di un piano nazionale per la ricerca e su questo possibile piano nazionale per la ricerca è tornata a parlare sempre la Ministra Giannini, 12 miliardi nei prossimi 7 anni per i ricercatori italiani. Questo è un ottimo avvio se veramente le cose stessero così? Sì, se fossero così e se fossero risorse aggiuntive a quelle che vengono già date, perché gli attuali piani o meglio, gli attuali finanziamenti già danno di queste risorse, moltiplicati per 7 anni. Bisogna capire se questa è una risorsa aggiuntiva rispetto a quello che stanziamo, se fosse una risorsa aggiuntiva e saremmo molto contenti di vederlo, anzi sosteneremo il Ministro in questa iniziativa, saremmo molto felici e sarebbe forse anche d'utile. Ho citato prima i soldi che abbiamo perso nello scorso programma quadro e siamo praticamente alla partenza del nuovo programma quadro, se lo affrontiamo con gli stessi presupposti non andiamo bene. Ma anche quando si parla di strategia e si parla di piano nazionale della ricerca, sembrerà paradossale, ma questo Paese non ha un piano nazionale della ricerca. L'ultimo piano nazionale della ricerca che abbiamo fatto è scaduto nel 2013. Adesso i risultati, le eccellenze che noi esprimiamo, peraltro quella comunicazione, quella dichiarazione la Ministra Giannini l'ha fatta dai laboratori nazionali del Gran Sasso che è un punto di eccellenza, ma dove ci sono poche risorse, adesso stanzieranno, si dice anche risorse lì, 60 milioni e però c'è anche un aspetto che viene troppo spesso tralasciato che riguarda il personale degli enti di ricerca. Poco e mal pagato. Ecco, c'è il rischio che si crei una sorta di conflitto fra i ricercatori del settore pubblico e i ricercatori del settore privato, De Biase? Ma io credo che una sana competizione non può che fare bene. Tenga presente che peraltro quando si partecipa ai bandi europei bisogna spesso fare delle unioni, quindi soggetti pubblici devono partecipare insieme a soggetti privati. Quindi in realtà più che competizione noi dovremmo sviluppare le sinergie affinché si possa competere al meglio. Anche qui, quella assenza di coordinamento può forse creare quel problema che lei dice, ma ci vorrebbe coordinamento è anche la possibilità di avere norme specifiche per il settore ricerca dove la circolarità degli addetti e quindi ipotizzare che chi lavora nel pubblico per un periodo possa lavorare nel privato e chi lavora nel privato possa lavorare per un periodo nel pubblico, con la consapevolezza che quando si torna nel proprio posto di lavoro non si è penalizzati come accade oggi perché si è fatta un'esperienza altrove. Ecco, questo è il compito della politica, risorse ma anche norme. Sulle risorse io capisco le difficoltà perché non veniamo dalla luna, a parte che se semplifichiamo e se facciamo scelte utili magari qualche risorsa in più la liberiamo. Ma sulle norme, sulle iniziative, cosa osta a operare oggi e non dopo domani quando magari sarà troppo tardi? Ecco, un ricercatore che si rivolge alla sua federazione, cosa chiede, in che cosa spera che voi possiate aiutarlo? Guardi, molti ricercatori ci chiedono di poter continuare a fare il proprio lavoro, è una difficoltà quotidiana, burocrazie, norme, fatica per far capire anche qual è il proprio lavoro. Noi siamo in un paese dove non molto tempo fa qualche ministro diceva che con la cultura non si mangia, rispetto allora a parte qualche pacca sulle spalle non è cambiato tanto. E poi molti ricercatori sono precari, se analizziamo lo spaccato dei suoi enti pubblici di ricerca, un terzo del personale è precario e peraltro con una possibilità di effettuare concorsi che è limitata, il precariato non è frutto di scelte dissennate, è frutto del fatto che negli anni, come in realtà per il resto della pubblica amministrazione, ci sono stati blocchi costanti delle assunzioni, anche oggi il turnover che deriva dalla legge finanziaria, la possibilità di utilizzarlo è il 60% per i ricercatori che è ampliato un po' rispetto al passato e va riconosciuto, ma sempre vanno in pensione 5 ricercatori e ne assumo 3 e poi per il personale di supporto, sia questo tecnico specializzato piuttosto che amministrativo, ne vanno in pensione 4 e ne assumo 1, ma quando noi partecipiamo a un progetto il ricercatore deve avere l'idea, deve realizzarla, spesso non ha più neanche il personale amministrativo che gli fa la rendicontazione, quindi deve imparare anche a fare la rendicontazione e va bene che siamo bravi, ma che cosa dobbiamo chiedere più a questa gente, per altre gente che ha un contratto che è bloccato dal 2009. Quali sono gli obiettivi, detto tutto questo, che voi aspirate a raggiungere per questo 2016 come federazione innovazione e ricerca della CIS? Noi intanto abbiamo uno strumento normativo che non c'era ed è una norma inserita nella legge cosiddetta Madia, la 124 del 2015, che consente di fare subito delle operazioni per valorizzare la peculiarità degli enti di ricerca. Ecco, questa è una cosa che può essere fatta e questo noi chiediamo al Presidente del Consiglio, alla Ministra Giannini e alla Ministra Madia di operare in tal senso e queste ripeto alcune sono norme dove è sufficiente mettere a sistema quello che noi abbiamo, è sufficiente consentire agli enti, laddove ci siano le risorse e laddove si liberano i posti, di assumere senza aspettare due anni le procedure tipiche che troppo spesso ci capita di incontrare quando veniamo trattati senza nessuna specializzazione, senza nessuna peculiarità. E poi, l'altro aspetto, noi è chiaro che nei confronti del governo manteremo alta l'attenzione perché le dichiarazioni sono belle ma poi vanno tradotte in fatti concreti e questo sarà il nostro compito di vigilare su questo aspetto. Chiederemo peraltro, stiamo chiedendo peraltro alla Ministra Giannini di rendere pubblico questo piano nazionale cui lei spesso fa riferimento perché è fondamentale per capire qual è la strategia. Ma pensi a un ricercatore che magari vuole fare la ricerca sulle onde gravitazionali e poi fra due anni scopre che questo non era nelle strategie del Paese, non è il caso fortunatamente nelle onde gravitazionali che il successo se lo sono ricavati indipendentemente come del Gran Sasso e come di molti altri esperimenti. Ma definire un piano nazionale di ricerca non costa niente, vuol dire mettere al sistema e dire qual è la strategia sulla quale il Paese opererà per i prossimi anni. Poi conveniamo su quello che dice la Ministra Giannini, la ricerca è fondamentale, noi abbiamo coniato anni fa un paradigma al quale siamo molto affezionati, ricerca, innovazione, sviluppo e qualità della vita, figurarsi se non condividiamo, ma per questo noi richiameremo l'attenzione e richiameremo anche alla coerenza e sarà il nostro compito, noi lo stiamo facendo, conferenze stampe, comunicati, presidio, stiamo anche innovando il nostro modo di fare mobilitazioni, ma sappiano che ci sarà sempre qualcuno che gli ricorda che è vero che la ricerca è importante come loro dicono, ma che poi debbono operare perché questo diventi un fatto piuttosto che una dichiarazione. Che si passi quindi dalle parole ai fatti e si concretizzi un obiettivo. Benissimo, io ringrazio il nostro ospite in studio che abbiamo avuto qui oggi, il segretario generale della FIR CISL, la Federazione Innovazione e Ricerca della CISL, Giuseppe De Biase, e vi do appuntamento domani con una puntata speciale di Simposium. Grazie a tutti per averci seguito, buon lavoro e buona giornata. Grazie a tutti. Buona giornata. Grazie a tutti.